Oggi torniamo a parlare di obbligazioni. Analizzando un titolo di Stato ungherese, quanto rende? 3,96%. Quando scade? 18 novembre 2030. Che cosa ne penso? Lo inseriscono all'interno del mio portafoglio? Mettetevi comodi, lo scopriremo insieme subito dopo la sigla. Io sono Luca e questo è Fratelli in Finanza. Come sempre in questi video nella prima parte vi parlerò di tutte le caratteristiche dell'obbligazione. Successivamente ci sposteremo su Excel per fare i calcoli con le mani come tanto ci piace fare. Naudiziona, questo sarà il primo video, il primo di una lunga serie in cui il foglio Excel sarà disponibile. Lo potrete tranquillamente scaricare. Finalmente sono riuscito a trovare un sistema che mi consente di farlo in maniera semplice. Quindi ascoltando i vostri commenti sono riuscito ad ottenere quest'ulteriore miglioramento per tutti. Infine vi dirò che cosa ne penso. Se in questo giro per l'Europa che stiamo facendo, ultimamente inseriscono all'interno del mio portafoglio questo bond. Partiamo subito. L'obbligazione in questione appunto è un titolo di Stato. È stato emesso il 17 novembre 2020, quindi in piena pandemia. Perché vi dico questo? Perché ha una cedola pari a 0,50%. La cedola viene pagata una volta l'anno, il 18 novembre di ogni anno, dal 2021 al 2030 che sarà appunto l'ultima cedola. Perché? Perché eravamo in un contesto di tassi pari a 0. Quei tassi pari a 0 nel 2010-2011, sì, uno degli ultimi bond emessi a quella tassazione là. E quindi il titolo di Stato ne risente tantissimo. Di cosa? Dell'aumento dei tassi di interesse. Perché? Perché è stato quotato a 99,638 se non vado errato. Ed ora il suo valore di mercato si aggira a poco più di 81 euro. Quindi ha perso moltissimo, ma è normale perché non paga cedola. O meglio, ne paga ma pochissimo. Il grosso del rendimento lo andremo a fare quando alla scadenza, il 18 novembre 2030. Quindi per questo il suo prezzo è calato così tanto. Plotto minimo, 1000 euro. È dedicato, diciamo, agli investitori retail come i nostri BTP. BTP, moneta, euro e un BTP, chiamiamolo appunto un bond in euro. Quindi anche su questo è molto interessante perché non c'è nessun rischio di cambio. Altra caratteristica fondamentale che vi voglio sottolineare è la liquidità di questa obbligazione. Ne abbiamo parlato nei commenti per le altre obbligazioni, quella della Romania e quella di Cipro, che vi lascio qui sotto in descrizione e qui sopra se non avete ancora visto. Questi bond unicamente hanno una liquidità bassa. Quello della Romania c'è l'alta, quello di Cipro veramente bassa. Questo si pone ai 3-2. Abbiamo una liquidità intermedia. Lo vedete dal grafico qui sotto. Ci sono dei mesi in cui si realizzano 26, 28, 30 appunto contratti, scambi, 30 scambi e mesi in cui se ne realizzano molto meno. Quindi acquistarla è davvero difficile. Quando lo si fa diventa difficile sbarazzarsene. Tassazione. 12,5%. Come i BTP italiani, come tutti gli altri titoli di Stato, a essi equiparabili. Direi che vi ho detto tutto. Siamo pronti a passare su Excel. Ah, aspettate. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto. Non vi costa nulla ma per me è fondamentale per continuare a portare contenuti di qualità qua su questo canale. Grazie come sempre in anticipo. Iniziamo ad osservare il nostro foglio Excel come sempre dal titolo. Obbligazione Ungheria, 18 novembre 2030, 0,5%. Le caratteristiche essenziali dell'obbligazione. Ora andiamo ad osservare i flussi di cassa. Immagino che oggi, 20 agosto 2024, io decida di comprare questa obbligazione. E a che prezzo lo faccio? Il prezzo di mercato è pari a 81,14 come vedete. Lotto minimo, 1000€. L'ho già detto e tendo a ribadirlo. Assumo di fare sempre il mio caso scolastico con 10.000. Magari lo cambio, visto che l'otto minimo è 1000, metto 15.000 per cambiare, diciamo, un po' i numeri. Che cosa succede alla stessa data? Dobbiamo andare a pagare i rati, ossia il possessore precedente dal 18 novembre 2023 al 20 agosto 2024 ha diritto a ricevere la cedula, quella parte di cedula, che come vedete dalla formula è pari a 276 giorni sui 366. Quindi contestualmente al mio acquisto io vado a pagare anche 56€ che sono la cedula che aspetta il possessore prima di me. Successivamente cosa incasso? Incasso le tasse. Io non devo pagare le tasse, quelle mi vengono, diciamo, riadebitate. Quindi 7,07€. E c'è anche un altro credito. Questo è un credito che viene definito appunto un credito fiscale perché l'obbligazione ha uno scarto di emissione. Che significa? Vediamo dalla formula qua. L'obbligazione è stata emessa a 98,638, quindi c'è un disagio di emissione e su questa differenza alla fine, alla scadenza, dovremmo pagarci la tassazione, il 12,5%. Quindi a me vengono ridati dal possessore precedente e poi successivamente a scadenza la pagherò per l'intera somma. Che cosa succede poi il 18 novembre 2024? Appunto incasso in pieno la cedula, perché ho già pagato il possessore precedente, ho diritto a tutta la cedula, 75€. Niente, poco più di una pizza con un amico. Che il net diventano 65,63€. Stessa, identica cosa avverrà tra il 2024 e il 2030. Ultima data, 18 novembre 2030, incasso l'ultima cedula, pare 75€ lordi. Pago appunto la tassa su questa differenza qua, questo diciamo scarto di emissione che pare a 25,54€. Ed infine ritorno del mio capitale nominato, ossia pare a 15.000€. È qua che realizzo gran parte del guadagno. Guardate un po', 14.671€ è il netto, quello che è in gas. Come vedete, la differenza tra il capital gain, la differenza tra i miei 15.000€ è il costo di acquisto, il prezzo di acquisto. Ci vado a pagare la tassazione, il 12,5%, ci vado a includere anche questo scarto di emissione ed ecco qua la mia bella sommetta. Quindi parliamo di guadagni. Quando guadagno banalmente 2.894€ netti, ma parliamo di rendimenti, che è la cifra che ci permette di comparare queste obbligazioni con altre. Lordo, come vi dicevo all'inizio del video, 3,96%, netto 3,52%. Cosa fondamentale che tendo sempre a ripetere è il codice ISIN, che trovate qua e anche qui sotto in descrizione. Lo sapete, ormai sta diventando un'abitudine. Dobbiamo tener conto anche dell'imposto di bollo e per questo realizzo un altro foglio. Non voglio andare a complicare questo più di tanto. E lo chiamo, come sempre, flussi al nettissimo. Cos'è l'imposto di bollo? Lo 0,20% all'anno che dobbiamo andare a pagare. Come sempre, per semplicità, perché abbiamo una differenza di qualche numero, di qualche euro, quindi io per approssimazione, per semplicità, la calcolo sempre sul valore nominale. la dovrei calcolare sul valore di mercato. Ma a me è difficile andare a immaginare quello che potrà essere tra qualche anno. Ma abbiamo differenze di pochi euro, quindi non complichiamoci la vita. 20 euro, 20 euro in ogni anno, tranne il primo anno dove devo andare a pagare solo dal 20 agosto al 31 dicembre, quindi 7,39 euro. Ecco, qua mi è rimasto su 10.000. Cambiamolo. esattamente, 11 euro, 30 euro ogni anno e infine l'ultimo anno mi va a venire la cifra di 25 euro perché la detengo sino al 18 novembre. Che cosa cambia il mio rendimento? Banalmente pago lo 0,2 qualcosa del genere, diventa il 3,73% lordo e il netto diventa il 3,29%. Siamo giunti alla fatidica domanda. Che cosa ne penso? Andiamo a fare un confronto. Tra cosa? Tra il titolo di stato ungherese e quello italiano. Ho trovato un BTP con una scadenza molto simile, 15 novembre 2030, quindi una differenza di soli 3 giorni. Rendimento netto, 2,76%. La mia obbligazione rende 3,52%. Abbiamo tra 80 e 90 punti base di differenza. Qual è il rating delle tue nazioni? Triple AB per l'Italia, triple AB per l'Ungheria. Hanno lo stesso rating creditizio, però a parità di rating l'Ungheria è considerata più rischiosa dell'Italia, paga dei punti base in più. Quindi a prescindere da questo, sono sufficienti 80-90 punti base per comprare un bond ungherese. Andiamo diciamo per step. Prima cosa, secondo me no. Il rendimento che ci offre in più questa obbligazione non è così tanto rispetto ad un BTP. Abbiamo visto nei video precedenti che ci sono differenze molto più ampie, quindi non mi fa così tanto gola. 1. 2. La liquidità scarsa di queste obbligazioni rende davvero difficile andare a comprare sul mercato secondario. Appunto, grazie all'ISIN, che appunto vi metto in descrizione, che trovate sul foglio Excel, potete andare sul vostro broker, Fineco Interactive Broker, Diretta, tutte, tutti i broker, la vostra banca, il vostro unbegni e andare diciamo a negoziarlo. Potete farlo sul motto, anche diciamo su alcune borse europee. Forse non in Italia, forse in Germania, etc. E quella con più liquidità, credo. Però diciamo gli scambi sono veramente pochi, quindi è difficile andarla a comprare. La cosa che però, terza punto di vista a suo sfavore, che non mi fa davvero impazzire, è il fatto che l'obbligazione abbia cedole pari a zero praticamente. Incasso una manciata di pane, una manciata tutti gli anni, ne devo aspettare il 2030. Quindi che cosa significa? Che se io la compro, devo aspettare il 2030, la compro, la metto in un cassetto, me ne dimentico, nel 2030 ho questa obbligazione, guadagno qualcosina. Preferisco qualcosa con un'acetola magari un po' più elevata. Quindi per quanto mi riguarda, per queste motivazioni, la mia risposta è no. Questa non la compro. Non la comprerei appunto se avessi del capitale disponibile da allocare su un'obbligazione. E voi ragazzi, che cosa ne pensate? Qualcuno di voi ce l'ha nel suo portafoglio? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Come sempre scateniamo una bella discussione che serve a tutti, che giova a tutti. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima obbligazione. Ciao ragazzi!